Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale e di mio fratello. Io mi chiamo Davide e oggi proseguiamo col mio racconto di Alfredo Unoca Venturosa dell'episodio 10. L'attacco di Kodiak, parte 1. Una volta arrivata mattina Gino, offeso che Alfredo lo aveva ingannato sulla direzione da percorrere per portarlo nella sua fattoria, disse a Loca. Bravo, i miei complimenti, non solo mi hai fatto perdere la via per la fattoria, ma ora ci siamo anche persi. Se vuoi restare nel bosco, ebbene restaci, io me ne vado. Il cinghiale, furioso, stanco di parlare, fuggì via, lasciando Alfredo esposto ai pericoli. Nel frattempo Kodiak e i suoi amici incontrarono per la loro strada Ushari, il leggendario varano del bosco, che venne a sapere che nel bosco c'era un'oca. Quindi esso decise di aiutarli per annientarla. Kodiak, escogitando un piano con il resto della squadra, decisero di attaccare Loca, due alla volta. Per primo fu Corrado ad attaccarla. La faina furtivamente piombò sul collo di Alfredo, cercando di mettere fine alla vita dell'oca. Tuttavia Alfredo, confuso, lo scramentò contro un sasso e disse. Cosa stavi cercando di fare? Noi siamo amici, vero? Tutti gli animali del bosco lo sono. Da faina, alzandosi, in piedi rispose. Lo saremo una volta che te ne andrai da qui. Daniel, tocca a te. Provaci tu ora. Daniel, il tasso, uscendo da un cispuglio, schiacciò la testa dell'oca e gli disse. Ascoltami, giovane papero. Il bosco non è posto per te. Io potrei lasciarti anche in vita, soltanto se mi prometterai di ritornare nella tua vera casa. Però Alfredo, distardamente, non lo ascoltò e, alzando le ali, lo scramentò via lontano. La faina, arrabbiata e impressionata, ritornò da Kodiak, avvisandolo di non sottovalutare l'oca, perché essa è imprevedibile. Kodiak rispose. Hai ragione, Corrado, ma non temere, ho tutto sotto controllo. Fra un po' lancerò in campo Bat il pipistrello, il quale insieme Red, la volpe, dovranno sgozzarla. Piuttosto, Daniel, dove è andato? Corrado disse. Daniel è stato scramentato via, però sta bene. Ha deciso di tornare a casa, poiché il combattimento a lui non piace. Kodiak, comprendendo la scelta di Daniel, fu contento ugualmente, perché era certo che l'oca sarebbe stata sconfitta. Questo è Kodiak e questa è la faina, Corrado. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Facciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Davide. Ciao!